Volete vedere quanti spazi ha un catamarano a motore? Seguitemi, oggi vi mostro un catamarano veramente particolare, il Power 67 della Fontaine Pajot. Andiamo! Nel 1976 la Fontaine Pajot inventa il catamarano da crociera, da quel momento prende il via questo nuovo modo di andare in barca utilizzando queste imbarcazioni che sono veramente molto grandi, molto spaziose e molto voluminose, una moda che in questi ultimi anni ha raggiunto il suo apice, l'ha raggiunto con i catamarani a vela e adesso stiamo vedendo uno spostamento leggero ma credo inesorabile verso il catamarano a motore e proprio su un catamarano a motore noi ci troviamo in questo momento, siamo sul Power 67 appunto della Fontaine Pajot e barca che ora è la flagship, l'ammiraglia, l'ammiraglia per questo momento perché tra poco sarà varato il Fontaine Pajot 80 e da quel momento in poi chiaramente sarà l'80 ad essere considerato l'ammiraglia di gamma. Una barca che è 19 metri e 69, un baglio massimo di 9 metri e 84 ovvero sia 10 metri ed è proprio questa misura che rende questa barca così imponente. Voi pensate che il Power 67 per quanto riguarda spazi e volumi è pari a un monoscafo a motore a partire dagli 80 piedi. Ci vogliono barche superiori alle 80 piedi per eguagliare gli spazi e i volumi che trovate qua sopra, cosa che adesso io vi andrò a mostrare insieme all'ospite di oggi Luca Venica. Luca Venica è l'amministratore della Euro Sail Yacht e loro sono tra i più importanti dealer Fontaine Pajot al mondo per quello che riguarda le flagship ovvero sia i grandi catamarani e sarà lui a illustrarci la barca e a fare le dovute proporzioni tra questa imbarcazione e i grandi monoscafi. Andiamo a conoscerlo. Ciao Luca. Ciao Maurizio. Bentornato a Lignano Sabbia d'Oro. Grazie mille. Lignano Sabbia d'Oro è dove la Euro Sail Yacht ha il loro quartier generale ma non è l'unico ufficio che voi avete. No noi abbiamo uffici in tutto il nord Italia, a Ravenna, a Luano, a Varazze. Concentrati in nord Italia ma vendete in tutta Europa. Sì noi vendiamo in tutto il mondo, gli armatori ci scelgono perché l'Italia fortunatamente per geografia all'interno proprio nel mezzo del Mediterraneo e gli piace avere un dealer di riferimento che lo possa coprire un po' durante tutte le navigazioni. Certamente. Oh e siamo a bordo del Power 67 e io volevo parlare con te, iniziare a parlare con te di questa area che è un'area enorme proprio. Quanto è grande? Guarda questa è un'area di oltre 60 metri quadri, un'area multifunzionale. Abbiamo inserita una bellissima jacuzzi per passare dei momenti di privacy. Abbiamo queste grandi aree che possono essere usate sia per prendere il sole che per praticare yoga o qualsiasi altro tipo di attività fisica. Noi siamo abituati a vedere i grandi motor yacht. Il catamarano a motore è una barca relativamente nuova. Io voglio dare un'idea di quanto sia realmente grande. Mi puoi fare un confronto tra questa barca e un motor yacht? Beh guarda per avere questi spazi devi essere in un monoscafo di oltre 30 metri. Perfetto. Per cui puoi immaginarti che nonostante tutto non riescono ad avere questo baglio e questa larghezza. Questa per noi è una fortuna. Abbiamo una stabilità di forma grazie ai due scafi. Di conseguenza non abbiamo assolutamente bisogno di stabilizzatori, pin, giroscopi e generatori moto tutto il giorno. Certamente perché voi considerate che un motor yacht, un monoscafo in rada se non avesse gli stabilizzatori ballerebbe tutto il giorno e non sarebbe simpatico. Ma gli stabilizzatori sono energivori per funzionare. Hanno bisogno di un generatore che li alimenti tutto il giorno con le sue vibrazioni e con il rumore per quanto poco ma comunque il rumore e con il suo inquinamento. Giustamente. Visto questa parte qui io direi di passare a poppa e andiamo a vedere il pozzetto di poppa. Perché no? Andiamo. Eccoci Maurizio. Questo è il pozzetto e questo gioiello. Un signor pozzetto. È importante veramente questo pozzetto. Sì è una zona veramente multifunzionale. Guarda qui abbiamo la cucina esterna con un lavandino, due frighi, il grill importantissimo. Dopodiché abbiamo una perfetta zona di stivaggio sotto i divani, sotto il pozzetto stesso. Qui abbiamo un tavolo da 16 persone. Questa è una bellissima scala che facilita l'ingresso al fly e qui abbiamo l'ingresso della cabina posteriore destra. Sono una e anche un'altra lì. Certo ce n'è due qua. Oltre che l'accesso al mare. Guarda che altezza. Questa è un'altra caratteristica che distingue il catamarano dal motoyot. Sì assolutamente. È una barca che ha questi spazi normalmente a un ponte a 7-8 metri lontano dal mare. Non riesci a vivere il mare, non senti l'energia che ti dà l'acqua. Invece il catamarano essendo decisamente più basso sull'acqua chiaramente vi mette in comunicazione con il mare. Ma avete anche questa plancetta, questo è un tender lift. Questo è un tender lift ma non solo. Questa può diventare una tua piccola isola privata perché la fai scendere, fai comunicare due scafi, ci metti due chaise long e prendi il sole a pelo d'acqua. Ma è veramente facile scendere il tender. Guarda qui ci sono le selle amovibili. Una e un'altra coppia. Quando non le usi le nascondi. E quello scende sott'acqua e in due minuti hai il tender in acqua. Senza quelle gru pesantissime e bruttissime vedere dei mega yacht. E certo perché nel super yacht tu hai bisogno di mettere il tender sopra la coperta per cui dopo lo devi parare. Certamente. Senti detto tutto questo potremmo andare a vedere invece gli interni iniziando dalla dinette. Perché no? Andiamo. Ti seguo. Eccoci Maurizio siamo nel salone. Bellissima dinette proprio. Questa versione è con la cucina sopra perché si può avere un altro layout con la cucina sotto. Si sacrifica una cabina però hai qua un grandissimo divano. Diciamo che è adatto per un charter di lusso dove l'hostess e il cuoco rimangono fuori dalla zona sociale del cliente. Certamente. O se l'armatore chiaramente non ha intenzione di utilizzare lui la cucina allora avrà una cucina sotto col suo cuoco che andrà a cucinare per lui. Questa invece messa qui è ideale per l'armatore che ama cucinare e ama farlo mentre sta socializzando con i suoi ospiti. Ti do un numero il 70 per cento dei clienti vogliono la cucina sopra perché o l'armatore stesso o la moglie o gli amici amano cucinare e amano cucinare qua chiaramente. A differenza dei monoscafi che la cucina è sempre in zone anguste. Hai un salone che con il pozzetto ha quasi 90 metri quadri perché devi nasconderti in una cabina. Poi pensate che dimensioni lui ha ragione quando ci dice che per paragonare questa barca a un motor yacht bisogna salire su misure veramente grandi ma ancora di più voi considerate che la dinette il salone di un motor yacht solitamente si sviluppa in lunghezza perché abbiamo detto un 80 piedi ha un baglio di circa 6 metri 6 metri e mezzo questo ha un baglio di 10 metri per cui chiaramente l'80 piedi avrà una dinette stretta e lunga. Questa invece si sviluppa in larghezza e ha questa cosa meravigliosa. Voi guardate questa porta quanto è grande e come mette in comunicazione perfetta il pozzetto con la dinette. Non solo attraverso la porta anteriore si mette in comunicazione con il cockpit anteriore e grazie a queste finestrature tu hai continuamente a 360 gradi la visione del mare. Senti a proposito di quella porta in questo momento non c'è aria condizionata vero qui? No perché c'è un bellissimo giro d'aria per cui non hai necessità di generatore, climatizzatore e quant'altro. Non lo sentite ma in questo momento qui si sta freschi si sta veramente bene grazie appunto a quella porta lì perché ci permette di creare un flusso d'aria nella dinette. Senti detto questo io passerei a vedere le cabine ma prima di scendere andare a vedere cominciare proprio con la cabina armatoriale ci puoi dare un'idea delle diverse soluzioni che possiamo scegliere? Certo principalmente tu hai due layout che vanno per la maggiore cucina sopra o cucina sotto come ti dicevo circa 70 per cento degli armatori vogliono una cucina sopra 30 per cento vogliono una cucina sotto. In più l'altra alternativa è quella di sacrificare la cabina armatoriale per avere due cabine matrimoniali per cui hai in totale sei cabine contro cinque con la cucina sopra o quattro con la cucina sotto. Benissimo questo modello qui questo esemplare qui che oltretutto poi è la tua barca personale. Questa è la mia barca personale. Quale soluzione hai scelto tu? Io ho scelto la soluzione con la cabina armatoriale e la cucina sopra perché anche a me piace cucina. Benissimo andiamo a vedere la cabina armatoriale. Seguiteci. Eccoci Maurizio siamo qua nella cabina armatoriale che da quanto ho capito questa è la tua cabina. Si è la mia cabina ma è quella di tutte le altre barca. Ma è la tua cabina personale. Dove fai le vacanze? Dove faccio le vacanze? Va benissimo. Dove trasferisco l'imbarcazione? Dai diciamola così. Beh che dire girati guarda che finestrone gigante davanti al letto vedi il mare vedi i tramonti un sacco di luce naturale all'interno delle nostre imbarcazioni sempre. Qua abbiamo anche la televisione abbiamo un sacco di stivaggio. Abbiamo una bellissima scrivania. Di là come vedi c'è un bagno gigantesco con una chicca incredibile. Anche lì abbiamo una doccia con una finestratura grande come questa. Molto bella. Fare la doccia vedendo male è una delle sensazioni più belle di libertà che tu possa avere. Ma poi è molto grande però veramente un bel bagno. Senti invece le altre cabine? Le altre cabine sullo scafo di là abbiamo due cabine VIP che ricordano questa qua sempre con il finestrone laterale. Tutte hanno la doccia separata, la toilette separata e il lavandino. Hanno un sacco di stivaggio anche queste. Dopodiché abbiamo due posteriori che si entra dal pozzetto dove ti ho fatto vedere prima. Anche queste sono più o meno delle stesse dimensioni e puoi avere due layout differenti. Io in quella a sinistra ho deciso di avere i letti a castello perché così hai un uso più intelligente dello spazio perché per esempio se hai degli ospiti hai due coppie che non si conoscono così bene, hanno due figli, i figli possono dormire nella stessa cabina. A questo punto non ci rimane altro che andarla a provare la barca vero? Perché no? Perché non raggiungiamo il fly e ti faccio vedere un altro piccolo segreto questa cabina. Questa è l'uscita privata dell'armatore che può andare direttamente nella sua jacuzzi. Vieni. Vai, che ti seguo. Eccoci Maurizio qua sul fly, un'area favolosa coperta dall'art top di circa 50 metri quadri, abbiamo una piccola cucina con un frigo, un tavolo, un bel divano e dei prendisoli favolosi. Questo è molto carino che si apre e si chiude. Questo si apre e si chiude. Noi abbiamo anche la possibilità di lasciarlo chiuso e riempire tutto il fly e l'art top con dei pannelli solari fino a 7 kilowatt e ti dà la totale autonomia dell'imbarcazione. Non serve più il generatore perché questa barca può portare fino a 45 kilowatt di batteria a litio che ti danno la possibilità di attaccare l'aria condizionata anche di notte. Questo è bellissimo poter dormire di notte senza il generatore ma con l'aria condizionata penso che sia il sogno di tanti. Un sogno incredibile. E' messo in moto tutto elettronicamente facilissimo. E' facilissimo guarda. Soprattutto i catamarani sono di una semplicità di utilizzo unica. Noi adesso ti porterò ad una velocità abbastanza standard di 10 11 nodi per farti capire quanto poco consumano imbarcazione del genere. Mi per cui manutenzione minima tagliando da 2.000-2.500 euro motore, antivegetativa e quant'altro. Questa barca ha dei costi di manutenzione intorno ai 25.000 euro all'anno praticamente. E facendo il solito paragone se prendiamo un 25 metri monoscafo che motori può portare e quanto costa la monoscafo? Un 25 pensa che può portare circa tre motori da 1.350 cavalli e tra tutto quello che va mantenuto in barca, generatori, stabilizzatori, motori e tutti gli impianti di una barca così, io penso che va a spendere sui 200.000 euro l'anno. 10 volte tanto? 10 volte tanto. Impressionante. E' veramente impressionante quanto riesci ad ottenere con un catamarano. Tutti i vantaggi che al catamarano sinceramente sono unici. Parliamo invece un attimino. 10 nodi quanto consumiamo? 31 litri motori ora. Per tutti e due motori? Per tutti e due motori. Cioè poco più di una barca a vela praticamente. Poco più di una barca a vela. Stiamo muovendo una barca da 200 metri quadri. Certo, da 200 metri quadri che però pesa 31 tonnellate. Questo è uno dei grandi segreti del catamarano a motore. Voi pensate che una barca tipo la Z83 che ha dei spazi esterni che non arrivano adesso uguali a questi. Anche se poi ha delle volumetrie interne un po' più grandi di questa qua. Quella barca pesa 65 tonnellate. Cioè oltre il doppio. La Z78 se non mi sbaglio sta intorno alle 58. Siamo sempre quasi al doppio di questo peso. Doppio di questo peso vuol dire avere dei motori enormemente più grandi per poter spostare la barca. Consumi enormemente più alti e anche un grande inquinamento in più. Assolutamente. Non solo la produzione di CO2 ma anche l'impatto sui fondali. Spostare tutta quest'acqua veramente disturba la fauna e la flora sottomarina. Certamente. Se io volessi andare un pochino più veloce a quanto posso camminare di crociera? La nostra crociera è intorno ai 15 nodi a 100-120 litri ora a seconda del mare. Se abbiamo l'onda contro vai sui 120 altrimenti puoi stare sui 100. E in velocità massima raggiungo? Velocità massima siamo intorno ai 20 nodi, 20, 22 sempre lì a seconda della condizione del mare. Ok e lì arrivo ai 200 litri ora? No stiamo leggermente sotto siamo sui 180 litri ora. E un 25 metri con tre motori da 1.350 quanto fa? Mi viene mal di testa solo pensare. Detto questo io penso che abbiamo fatto abbiamo tracciato un profilo abbastanza completo di quello che è il Power 67 grazie a Luca Venica che ci ha guidato ma anche soprattutto abbiamo visto abbiamo analizzato la differenza che c'è tra un catamarano di queste dimensioni e un motor yacht uguale per spazi e per volumi. Abbiamo visto che ci vuole una barca enormemente più grande nel monoscafo di quanto serva su un catamarano con costi chiaramente completamente diversi. Luca io ti ringrazio per la tua consulenza e per averci fatto provare questa... Salute a te e salute a tutti! Vi ricordo che se volete sapere più della barca potete scrivere alla Euro Saint Lyot e chiedere a loro la Brojour fatta appositamente da loro che è veramente molto molto bella. E' una piccola opera d'arte proprio con delle fotografie meravigliose e delle spiegazioni che non troverete altrove. Detto questo vi saluto e vi do appuntamento sul prossimo video con iCat SVN Catamarans con iCat SVN Catamarans